Sì, 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 stasera, sì, grande Roma, veramente grande Roma, sontuosa, anche se abbiamo vinto 2-0, è uno che non ha visto il match, no? Potrebbe dire, riguardo la mia copertina del video, dominati, ma che cosa stai dicendo? 2-0, sì, dominati, dominati perché nel primo tempo quel vantaggio è super meritato, super meritato e poi praticamente rispetto magari a tante altre partite in quella Roma per difendere il risultato in realtà fa un errore, si schiaccia troppo dietro e subisce ancora di più, questa sera non è successo e sono contento anche di questo perché tu praticamente hai concesso poco o nulla al Salisburgo, certo magari, no? Una disattenzione, quella di Bagnez, per dire, no? Nel secondo tempo poteva costarti cara, no? Sotto questo punto di vista, però ovviamente, cioè, non tiriamoci sempre la sfiga addosso ci sono comunque anche gli altri che sbagliano, perché di solito la storia della Roma qual è? La Roma, per segnare, per buttarla dentro, deve fare 20 tiri, gli altri per segnare, agli altri per segnare basta una mezza occasione e stasera non è stato così, era stato così all'andata, stasera non è stato così, per fortuna e per bravura nostra per bravura nostra, perché, cioè, nel secondo tempo magari poteva benissimo succedere che invece che il Salisburgo accorciare le distanze sarebbe stata la Roma comunque a fare il 3-0 e nessuno avrebbe detto niente non è successa nessuna delle due, quindi siamo tutti contenti così, grande Roma ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti mamma mia, che partita, ma dall'inizio l'intensità, la grinta, cioè, è la grinta della squadra di stasera cioè, è la grinta di Belotti, cioè, Belotti veramente, Belotti, Spinazzola e Di Bala partita pazzesca, partita pazzesca, Belotti, oltre il gol in Europa League non si doveva sbloccare perché comunque già ha segnato in Europa, ma è un gol che, unito alla partita che ha fatto alla grinta che ha messo in campo, veramente è un libidine, libidine veramente, una cosa, sono super contento e lo si vede anche, o meglio, si vede anche che Belotti era super contento questa sera, quando è stato cambiato, lo hanno inquadrato praticamente, gli ultimi due minuti di match era lì, in panchina, super sorridente, cioè, dà veramente morale a questo ragazzo, serve veramente tanto morale, col Verona non è riuscito a buttarla dentro, col Salisburgo uguale stasera ci riesce e fa una grande partita, si guadagna dei falli, veramente da lottatore cioè, stava giocando a rugby, a rugby vincendo i duelli, veramente, grande, grande Belotti grande Belotti, meno male, poi vabbè, la coppia, Spinazzola-Dibala, diciamo, Spinazzola-Belotti e Spinazzola-Dibala, perché Spinazzola entra comunque in entrambi i gol, veramente, Spinazzola tiene, tiene, di fisico, fino alla fine, corre, è quello che corre di più in campo, in generale fino alla fine, e se ha, veramente, quello che manca a lui, come a tanti altri giocatori del resto, no, che magari sono forti, ma non hanno continuità, ecco, la continuità che se lui ha questa forma fisica, costantemente, veramente, può far paura, eh, lì sulla fascia anche perché lui è un giocatore ambidestro, cioè, lui è un destro naturale, stasera fa quei due cross di sinistro, vabbè, il primo, sporcato, assist, chi se ne frega, sempre assist, eh il secondo, palla perfetta, veramente, tanta roba, ma gli strappi, veramente, stasera ho rivisto gli strappi del vero Spinazzola, il vero Spinazzola, poi che dire, di bala, ah, tra l'altro spina, poi, qualche copertura, comunque, poi, intelligenza, no, in alcune situazioni, guadagnare il falo laterale, quindi anche una certa lucidità, quindi, tanta roba, di bala, vabbè, di bala, cioè, inventa, cambi gioco, traversa di testa, cioè, se avesse segnato di testa, me ne sarei andato, vabbè, in legno, non poteva mancare in una partita della Roma, ovviamente, poi, il gol, cioè, lui ha fatto sembrare facile, comunque è una cosa che, sì, ok, non è impossibile, ma, tanti altri, magari, avrebbero sbagliato, appunto, la postura del corpo, come ha appena detto Bergomi, ad esempio, nello studio, la postura del corpo, no, non Bergomi, del Piero, scusate, cioè, la postura del corpo, basta un attimo, e mandi la palla in curva, apri troppo il piatto, invece, lui, perfetto, ha letteralmente poggiato il piede, coordinato alla perfezione, ma è una cosa, secondo me, che gli viene anche automatica, e quindi, veramente, gran partita di di bala, cala nei minuti finali, insomma, ma, ci sta anche, dopo tutto quello che ha fatto, stessa cosa a Bellotti, alla fine, l'ultimo tiro che fa, praticamente, esce, una mezza ciofeca, ma, perché, non ha più energie, ha i crampi, è veramente, cioè, crampi super reali, realissimi, a volte si fa finta, no, ci si butta per terra, quelli di Bellotti sono, vi assicuro che sono super reali, e, quindi, che dire, questi tre, veramente, partita sontuosa, poi, ci metto anche Matic, che è uno che, praticamente, mai entra negli highlights delle partite, ma all'immezzo, smista, ha recuperato qualche pallone, gestisce la situazione, mette ordine, è comunque una presenza fisica e di esperienza veramente importante, Pellegrini, mi aspetto sempre una cosa di più, cioè, in tante situazioni, magari, un po' mollo, è come se uscisse, tra virgolette, dalla partita, anche se, cioè, ovviamente, non è un'insufficienza, è, assolutamente, però, potrebbe fare, assolutamente, di più, essendo anche il capitano, poi, ok, nell'occasione del gol, no, del 2-0, è lui che, diciamo, crea, anche, la superità numerica, con quella palla di prima, praticamente, senza guardiare indietro per Respinazzola, che poi, ovviamente, sgasa sulla fascia e mette in mezzo per Di Bala, dietro, in difesa, comunque, abbastanza bene, perché abbastanza? Perché, comunque, il peggiore, tra virgolette, è Ibanez, che salterà l'andata degli ottavi di finale, perché era diffidato, è stato ammonito, prende un giallo, comunque, subito, un giallo, anche Pellegrini l'ha preso, eh, per proteste, proprio all'inizio, proteste sul fallo, eh, che ha fatto Ibanez, tra l'altro, e, quindi, Ibanez, due svarioni difensivi, il secondo e il secondo tempo, che poteva costare i caro, però, per fortuna non è successo nulla, però, ovviamente, eh, bisogna evitare queste cosette qui, e, poi, che dire, vabbè, comunque, Zaleschi, positivo, eh, entra Ebram e, praticamente, non fa altro che caricare il pubblico, quindi, positivo anche lui, eh, Murigno, positivo, anche lui, anche lui, assolutamente, e, quindi, che dire, poi, sicuramente, mi sarò scordato qualche cosa, però, bella, bella Roma questa sera, veramente, mi è piaciuta questa Roma, dai e Roma, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ditemi se mi sono dimenticato qualche cosa, insomma, aprite il discorso, parlatene, e, al prossimo video, ragazzi, dai e Roma, dai e Roma!